Ragazzi, è il momento Bello 46 metri quadri a Hong Kong Bello sto quartiere Cos'è Never Too Small? È un canale YouTube dove architetti mostrano Come loro hanno gestito la costruzione di appartamenti Con pochissimo spazio Beh, non era nemmeno un minuscolo Sì, sì, ma ovvio che costa una fucilata a Grovile C'hanno un Dyson Non compri un Dyson se non i soldi da buttare Io ho un Dyson Nick Mi fa pensare molto diversamente di te se hai un Dyson Bella la porta così O meglio, i miei hanno un Dyson Quello cos'è? Quella è una lavanderia Minchia minuscola Uuuuh Non pasci di un Dyson ne hanno due È molto che nello sto appartamento Poi quanta cazzo di luce Quella roba È lo stendino pieno fumante Cos'è un Dyson? È un ventilatore che costa un ciuolo Cesso giapponese La doccia Muro scorrevole Bravi Bravi Vedi? Al contrario dei francesi I cinesi mettono appunto il bagno Cioè la porta della doccia che si chiude E loro aggirano il problema dello spazio E l'assenza di bidet Con il cesso giapponese È sia per Hong Kong Costa un ciuolo Cioè è un bel quartiere La casa è nuova Quindi costerà veramente un casino Sta Sta casa Grazie